E' Trentino della Val di Sole il nuovo campione del mondo di mountain bike orienteering specialità must start. Si chiama Luca Dallavalle e ha conquistato il titolo in Lituania. Ce ne parla Gianfranco Benincasa. Con una volata perentoria sull'ultima rampa di 200 metri all'8% a Vilnius in Lituania, il Trentino Luca Dallavalle si è laureato campione del mondo nella specialità must start ai mondiali di mountain bike orienteering. E' come la corsa d'orientamento solo che si pratica in bici e bisogna seguire una serie di punti di controllo con un certo ordine e la strada ovviamente la sceglie il concorrente e chi completa il percorso nel minor tempo possibile vince. Il ragazzo di Croviana vale di sola regolato un gruppo di otto atleti rifilando due biciclette di distacco al secondo classificato. lo svizzero Simon Brandly, terzo il russo Ruslan Gritsan. All'inizio dello sprint finale ero in quarta posizione e poi c'era lo sprint abbastanza lungo, ho dato il tutto negli ultimi metri e mi è andata bene. Per Dallavalle si tratta del secondo titolo e ridato in carriera visto che già due anni fa conquistò la maglia nella sprint distance. Il mio primo titolo mondiale è stato in Repubblica Ceca a Liberec e sì diciamo che il livello mondiale è molto più elevato del livello italiano. Stavolta ha avuto la meglio nella specialità della must start che prevede una distanza a metà tra la long e la middle distance ed è stata introdotta nel programma dei mondiali da quest'anno. Dallavalle anche l'indiscusso leader italiano della specialità in carriera ha vinto 22 titoli assoluti. Torna domani, domenica, su Rai 3 alle 9.15 minuti, Vivi in Trentino, in apertura, devozione a San Romedio, dedicato agli ex voto e al nuovo percorso espositivo. A seguire in Val di Ledro per viaggiare nel tempo grazie alle installazioni di Ledro Land Art e alle palafitte del Neolitico. Alle 9.45 torna invece Tapirulan, in apertura tutti al parco, alla scoperta del parco naturale Paneveggio Pale di San Martino. Quindi un'escursione alla pieve di Santa Maria Assunta nel parco di Cavalese e alla biblioteca Muratori. Infine un approfondimento tutto dedicato al legno. Le minime registrate nei capoluoghi a Bolzano, 16 gradi, a Trento, 15. Prossima edizione alle 19.35. A tutti una buona giornata. Grazie a tutti.